Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo qui con BluefireTV e con Darkgamer23 per parlarvi della nuova apertura della community. Volevamo parlarvi un po' delle... cioè, anche abbiamo fatto questa nuova community, dopo vi spiegheremo bene... È un grosso progetto, raga. Sì, dopo vi spiegheremo i dettagli, i requisiti... e così, tipo, abbiamo deciso di fare un minimo di requisiti, almeno 200 iscritti. Chi ne ha, ad esempio, anche di più è sempre ben accetto. Sì, siamo sponsorizzati dai grandi questa volta. Siamo entrati nel giro, raga. Sì, è vero, mi ero dimenticato che anche... praticamente il nostro nome, Melamangio Network, che abbiamo preso un po' da Melagodo e anche da Melagembo, no? E abbiamo chiesto a Melagembo di sponsorizzarci il canale, almeno per qualche giorno, così dopo vedremo noi... Sì, ci sta. Ci mettono un po' nei canali consigliati. Ragazzi, nella community noi avevamo pensato di far entrare un 15 persone. Questo perché? Perché essendoci 30 giorni in un mese, ogni componente della community sarebbe stato... cioè, gli sarebbe stato possibile di portare alla community un video al mese, appunto. Almeno. E così, ad esempio, diamo una possibilità a molti nuovi di emergere. E... e... e riusciamo per bene a organizzarci. Sì, volevo solo aggiungere una cosa. Comunque, tipo, anche chi non sarà preso nella community, così, se non vi preoccupate, che tanto faremo anche sponsorizzazioni, vi aiuteremo in ogni caso lo stesso. Sì, ragazzi, continuano le sponsorizzazioni, sia sul mio canale che il canale di Stevor. Sì, proprio per tutti. Soprattutto uscirà la mia sponsorizzazione ai mille iscritti. Per chi... io continuerò anche... ho aperto appunto il secondo canale e la pagina Facebook per poter fare i video con gli iscritti anche sul secondo canale perché se ne avrò troppi fan o con cui dovermi gestire potrò appunto anche attivare il secondo canale. Scusa, rubo il mio spazio da spammone. E poi cosa tratterà la community? Passiamo la parola a Darkgamer23. Allora, in pratica in questa community si faranno video su recensioni, sponsorizzazioni, live, vlog, videogiochi e tutto in 720p. quindi se si faranno video in 480 o in 360 non verranno caricati, cioè non... Sì, sì, no, non saranno accettati. Eh, non saranno accettati. E niente, quindi 720p e non ho niente a cosa da dire, passo la parola a stare. Sì, perfetto. E niente, anche io, non so neanche io che cosa da dire. Quindi direi che chiudiamo qua. Sì, ragazzi. Qualchiun che voglia entrare nella community sarà invitato da noi a pubblicare un video tipo questo sul proprio canale così da farci conoscere in giro su YouTube così come è stato fatto per le altre community. Ragazzi, noi ci crediamo nella community italiana. Quindi... se siete interessati così commentate nel video scriveteci anche a noi in privato se vi interessa così e niente io direi che questo video è tutto vi faremo sapere il prima possibile. Bella a tutti ragazzi! Momento di fare le disceme. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao!